Amici di Twitch, bentrovati! Come state? Vedo che state già commentando e questa cosa mi fa molto molto piacere. Saluto intanto chi già si è connesso durante il pre-live, The Boy Wonder, ciao Dopter Chiara, i nostri fantastici moderatori, Cavaliere di Luce, bentrovato, ciao Downtown Heavy, Italy, Pepper, buonasera, vi state salutando anche tra di voi, questa cosa è fantastica. TommyMcFly03, buonasera a tutti, sto passando i miei ultimi momenti di sforzo per quel finito la serie WandaVision, che serie ragazzi, che serie. Dai, non apri sto discorso Lucio, non apri sto discorso, no, non finiamo più. Le parliamo nel post. No, neanche nel post, non voglio sentire le tue idee impopolari, facciamo così. Allora, io passerei innanzitutto subito a ringraziare il nostro super ospite, che è veramente un onore, sono molto molto emozionato perché per me sta nell'Olimpo degli attori e dei doppiatori, quindi ringrazio nuovamente per essere qui con noi Alessandro Quarta. Ciao, grazie, ciao a tutti. Ciao Alessandro, ogni tanto sentirai questa musichetta, che significa che qualcuno o si è abbonato al canale o ha regalato un abbonamento. In questo caso, Dayboy Wonder ha regalato un abbonamento a Christomas, mi sembra, 95. Quindi grazie mille per l'abbonamento in regalo. Alessandro, quindi ti ringrazio per essere qui con noi e prima di cominciare, proprio pochissime comunicazioni di servizio, ossia la più importante, punto esclamativo ospite, come comando che vi rimanda direttamente ai social di Alessandro, quindi Instagram e Facebook. Poi abbiamo punto esclamativo quote, che vi pesca una frase storica tra quelle dette da noi o da i nostri ospiti random, così a caso. Punto esclamativo Telegram e vi dà il link per il nostro canale Telegram, dove in anteprima, prima di tutti gli altri social, scoprirete ospiti, eventi in cui siamo invitati o a cui prendiamo parte, eccetera. Punto esclamativo Amazon, per andare a vedere la mia pagina Amazon dove comprare la mia attrezzatura da streaming o i fumetti di cui parliamo. Sono stato veloce ragazzi. Veloce. Vero? Vero. Allora, Alessandro, senti, io partirei con te con una domanda che noi ormai facciamo a tutti gli ospiti, per iniziare, e che è diventata ormai anche un'abitudine, no? Ed è una domanda apparentemente banale, però in realtà non lo è. Ossia, io ti chiederei di descrivere Alessandro non dal punto di vista professionale che noi tutti conosciamo, ma dal punto di vista di Alessandro stesso. Quindi tutto ciò che sono magari come ti vedi tu, le tue passioni, eccetera. Alcuni hanno detto che tu mi vuoi psicanalizzare, mi metto a sdraiare e faccio il dente. In realtà però, secondo me, è un ottimo spunto per iniziare la live. Benissimo, va bene. Detto questo, è molto inusuale per me questo aspetto, proprio perché sono spesso volentieri rivolto verso gli altri, quindi poco verso me stesso, ma mi piace il gioco, quindi gioco volentieri. Mi piace il gioco, mi piace molto il gioco, sono un giocatore anch'io come voi, molto appassionato. E sono ancora un bambino, un bambino che gioca seriamente. Mi diverto, mi diverto con gli altri, gli altri sono molto importanti perché sono convinto che insieme si riesca a fare molto molto di più che da soli, ed è anche più divertente. E quindi le mie giornate sono all'insegna della ricerca del ritmo comune, un ritmo di vita molto rato spesso, molto divertente, anche pazzo, perché no, certi giorni. E quindi è quello che mi ricordo di più, del mio passato, del mio presente. Non sto tanto a guardare quello che ho fatto o quello che faccio, ma con chi la faccio, che è forse ancora più importante per me, visto che inizio da bambino, quindi Alessandro da bambino comincia a giocare e ancora non ha finito. Quindi ancora non ha finito a giocare come quando era piccolo, come fanno i bambini, seriamente, con molta serietà, ma è un gioco. Beh, bellissima questa cosa. Quindi sei un giocatore anche tu, mi dicevi poi nel pre-live che prediligi l'aspetto PC, quindi tutto. Con cosa hai iniziato? Dov'è nata questa passione per il gaming? Ah no, vabbè, io ho due grandi passioni, il film e i giochi. Quindi io la notte, la mattina, il giorno dopo andavo a scuola, la notte giocavo e guardavo film. Insomma, quindi credo di aver iniziato con, non lo so, Civilization o Uno. Non ricordo, io penso, beh, sicuramente per Commodore 64 c'era un po' di giochi, mi ricordo Barbarian, anzi erano dei giochi bellissimi, con la cassetta che non funzionavano mai, che passavi più tempo a caricarli che a giocare. Nasce proprio da lì, dal Big 20 e dal... Un soffio magico. Sì, ma che ne erano un'infinità, no? Adesso ci sono gli emulatori, anche interessante e divertente, fanno quasi ridere, no? Però... Quelle sono le mie origini, insomma. Ok, quindi dal Commodore 64. Io invece ho iniziato con la Miga, che penso sia stata quella subito dopo, il Commodore. Sì, oddio, in realtà ancora prima c'era il Pingtronic, non so se ve lo ricordate, quello che era... Quello con le stecchette, con la ballena... Sì, fantastico. Quello credo che sia stato il mio primo gioco, sì. Bellissima, bellissima. Questa passione poi è condivisa, quindi non posso che essere d'accordo. E invece, ricollegandoci a passioni, hai detto che le tue grandi passioni sono una ai giochi e l'altra ai film, e poi ovviamente dei film ne hai fatto il tuo lavoro. Sì, beh, diciamo che sì, da sempre, insomma. Ho cominciato con gli anni, dieci il doppiaggio, sei annunciato, dieci il doppiaggio, quindi non lo so, sì, da sempre. E come, dato che hai iniziato poi da così piccolo, sei anni il teatro e dieci il doppiaggio... È una grande passione la musica, eh? Ah, fantastico. Io ti capisco perché sono un pianista anche. Hai fatto 15 anni di musica medievale, quindi... Ma hai visto quante passioni fighe che c'ha? Complimenti, complimenti, perché... E comunque ricordiamo che le giornate sono sempre da 24 ore. Esatto. Giusto. Quindi... Ne sfrutto tutte anche troppo. Oppure ha qualche superpotere. Penso di sì. Ma come diciamo noi sempre, il tempo per fare le cose si trova sempre. Quello che poi alla fine rinuncia è il sonno, però alla fine il tempo lo trovi, giusto? Sì, sì, è proprio l'energia vitale. Scusi, vai, fai un'altra cosa. E quindi questa passione che poi ti ha spinto a sei anni, verso il teatro, a dieci, quando hai iniziato verso il doppiaggio, com'è nata? Nel senso, tu eri molto piccolo a quell'epoca, quindi... Beh, ovviamente nasce mia madre attrice teatrale, quindi passavo le mie serate, invece che con gli altri bambini le passavo a teatro. Era proprio stata quella la mia università, la mia scuola, la mia formazione vera è stata lì, tutte le sere lì, sapevo tutti gli spettacoli a memoria, ero la memoria storica degli spettacoli, anche piccolo, mi venivano l'anno dopo, quando ripresevano gli allestimenti, mi chiamavano, dico, com'era questo? Perché sapevo tutti gli spettacoli a memoria, quindi scrivo i copioni anche gli anni successivi ed ero un punto di riferimento a sei anni, perché ero molto dritto. mi ricordavo tutto. Si nasce da lì, da mamma attrice, io ho mamma attrice, papà ingegnere, io ho fatto l'attore, mio fratello è ingegnere elettronico, ma mi siamo divisi... E poi da lì è stato tutto, diciamo, un'escalation, ti sei subito accorto che questa grande passione volevi coltivarla. C'è stato però un momento in cui tu hai detto, o magari, dato che hai tutte queste passioni, un momento in cui sei stato in crisi e hai detto, magari questa non è la strada che voglio intraprendere. Allora, diciamo che più che la strada che voglio intraprendere quando inizi da bambino hai come l'impressione di non meritarti quello che hai. E quindi, in qualche modo, lì nasce per me proprio la musica, perché la musica è una cosa che ho coltivato da solo, che ho fatto da solo, ho studiato da solo, sono partito con la mia valigetta, sono andato ad Assisi a cantare con uno dei gruppi più importanti di questo tipo di musica, che era una musica medievale, e quindi me la sono sentita mia, mentre alla fine, doppiaggio e recitazione, teatro e cinema, non me li sentivo quasi come se non mi appartenessero, ma come se fossero una strada da non poter non intraprendere. È stato molto facile, è stato difficile crescere, questo sì, ma magari poi ne parliamo di là o non. Sì, 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 va bene, va bene. Io non vorrei, anche perché Alessandro, tu devi sapere che qua mi bacchettano sempre perché dicono che io mi monopolizzo l'ospite. dicono tu sei... Abbiamo già svinzegliato la chat, Mauro, per... Esatto, ho letto che la chat è già molto attiva, quindi mi raccomando, io vi prometto che passerò a voi, alle vostre domande, perché è anche giusto così, però prima, per non farmi dire tu mi monopolizzi l'ospite, lascerei almeno una domanda ad Andrea, un allucio, così non ho persone che mi bacchettano, non mi ricordo. Sì, te ne lavi le mani proprio, cioè dici... Esatto, così, l'ho detto in diretta, gli ho lasciato lo spazio, quindi non mi venite in privato per dire, parli sempre te. Vai Andrea. Alessandro, noi abbiamo un processo, diciamo così, dove ogni volta che c'è un ospite, ovviamente sguinzegliamo anche altre persone del team che ovviamente cercano pagine per per divulgare il più possibile, perché il nostro motto, come dico sempre a tutti gli ospiti che abbiamo, è diamo un volto alle voci nell'ombra, e quindi questo gioco funziona se siamo in tanti, se siamo in pochi, ovviamente il gioco è meno divertente. Per te è stato veramente facile e difficile, perché hai fatto talmente tante cose e talmente tanto iconiche, che c'è stato da sbizzarrirsi, ma allo stesso tempo è stato tipo un panico generale. Tutto questo, per arrivare a chiederti, qual è il lavoro che ricordi con maggior soddisfazione? Allora, beh, soddisfazione definiamo, perché sicuramente Scrubs è una delle serie più belle e più emozionanti che ho vissuto nella vita, proprio per come si è articolata la serie, per il team, diciamo, artistico che avevamo, eravamo tutti veramente fraternamente uniti da ragazzini, fin da bambini, no? Io e Nanni Baldini siamo un po' come tutti perché i genitori, i genitori, i genitori, c'è un problema, l'utiamo, lui arriva, è la sua casa, quindi quello sicuramente è stata una delle serie, la serie della vita, la serie che diceva, beh, mi è capitata questa, che gran culo, insomma, ci ho avuto, no? E di questo devo ringraziare Carlo Cosolo, perché nella prima, diciamo, nella prima, no? Tornata e le prime edizioni le ha gestite lui e quindi lui che mi ha chiamato, mi ha fatto fare il provino tanti tanti anni fa, quindi lo ringrazio, grazie Carlo, è stata una esperienza più belle della mia vita. Beh, sicuramente ha lasciato un segno importante, no? Cioè oggi alla fine... Anche per come era strutturata la serie, cioè divertente ma seria, quindi è stata una delle prime forse che ha, diciamo, calcato un po' il drame di notte, la serie con media drammatica, quindi devo dire è molto bella, perché poi la vita è così, è un gioco, però ci sono anche eventi drammatici, quindi bisogna anche avere la leggerezza e la profondità per affrontare tutte e due le cose, quindi equilibrio e serenità. Guarda, io sono molto contento che la serie che ti ha dato più soddisfazione e che ricordi con più affetto sia questa, ma perché ha avuto un significato profondissimo per me. Io sono cresciuto con Scraps, mi ricordo che quando c'era Scraps andavo ai primi anni del liceo, forse se io dovessi scegliere una serie, la serie per eccellenza che porto nel cuore è quella, mi ha fatto crescere, cioè io sono cresciuto con quei personaggi e soprattutto con la tua voce, cioè JD, per me JD è... per questo ti dicevo che io sono molto emozionato oggi, perché a parte tutti i lavori che hai fatto che sono meravigliosi, da Keygrave a Studi una notte da leoni, poi scusami, ma questo è meraviglioso. Per me JD ha un significato particolare e quindi ti ringrazio perché gli hai dato voce in una maniera eccellente, perché poi io l'ho rivista anche in alcuni episodi in lingua originale e non è la prima volta che dico a me è piaciuto di più il doppiaggio italiano. Ha un personaggio che ha adorato. Eravamo molto contenti, bravi adattatori, bravi direttori, devo dire è stato un bel doppiaggio, la casta doppiaggio, ha sempre fatto prodotti di grande qualità. Vai Luciano. Allora diciamo che mi collego un po' forse alla domanda di Andrea, ma non è la stessa. Forse il risultato potrebbe essere lo stesso, però. Qual è stato il personaggio, diciamo, a cui si è immedesimato di più, che ha doppiato, appunto, che ha più tratti simili, appunto, con cui si trova più in sintonia, con quale personaggio, diciamo? No, questo non è così, io non metto mai me stesso, cioè non faccio mai un paragone con me. Quando mi calo nel personaggio altrettanto, cioè molto velocemente entro, molto velocemente esco. Ok. come filosofia di vita e di lavoro, vado ad accompagnare il mio personaggio. Infatti l'idea di fare le voci di solito non mi piace perché la voce è legata a quel personaggio, quindi non è che ho la voce 3, la voce 4, la voce 3, ho la voce legata a un volto. Quindi in realtà ogni personaggio è un gioco diverso, ogni personaggio è una sfida diversa, ci sono personaggi molto complicati, ci sono personaggi difficili, facili, soddisfacenti, frustranti, tanti tipi di personaggi. E avendone fatti tanti, 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 non mi affeziono ai personaggi. Gli do il massimo dell'attenzione, però non me li porto a casa, ecco, li lascio lì e li rivivo, perché il piacere è anche di riviverli, cioè io sono uno di quelli che guarda un film, a metà si accorge che ti ha doppiato oltre a casa. misto. Quindi riesco a prendermi il film, anche a volte a dispetto del ricordo di averlo fatto, ci sono alcune cose che mi ha detto, mi sembra che l'ho visto questo film. E quanto sei critico con te stesso quando ti riascolti? Allora, sicuramente c'è stata un'evoluzione, all'inizio ti prende un colpo, non accetti la tua voce, non ti sembra di essere sempre sbagliato. Ho lottato anche con i miei personaggi, ho detto ai direttori che non ero giusto, che non andavo bene, mettendomi, facendo un pessimo lavoro di giudizio del personaggio e del lavoro degli altri. Con l'età, questo è assolutamente scemato, ora ho una filosofia, tu mi ci hai messo, tu mi giustificherai col mondo. È colpa tua, in un certo senso, no? Lo che voglio fare io è di aderire al più possibile e quindi mi fido, mi affido alla persona che mi ha scelto. Se tu mi hai scelto vuol dire che vedi e poi via il gioco di fare una proposta e comincia il bellissimo gioco della collaborazione, no? Tu proponi, il direttore o la direttrice ti aiutano a trovare la strada giusta, la scelta giusta, che è una simulazione. Non è solo quello che vedo io, ma è proprio quello che vede il direttore o la direttrice. E quello è molto importante. Facevi prima il gioco di Una notte da leoni, per esempio, quello è un esempio tipico di genialità del direttore che ha inventato di sana pianta moltissime cose, anche delle caratterizzazioni. Non so se avete visto Ciao, che ne ha fatto un personaggio iconico, geniale, che è Oreste Baldini, che è veramente un artista tutto tondo, però ti fa impazzire perché facciamo il film tuo, va bene, allora il film tuo va benissimo perché poi funziona ed è veramente figo, è veramente efficace, però a volte questo può... cioè, se non ti affidi, sei frustrato. Io mi affido sempre, così sto a posto. Se mi porta fuori, segnimi il video che mi porta fuori, facciamo il film tuo, mi piace. Beh, mi sembra anche un bel ragionamento questo, è anche giusto questo. Io chiedo questo ai miei attori, cioè di fare in modo di creare questa sinergia. Ma posso chiederti una cosa, ma è un po' come nel calcio, nel senso che quando va male è sempre colpa dell'allenatore e quando va bene sono bravi giocatori? Anche così è nel doppiaggio. Dipende, sì, perché poi alla fine la voce era tua, quindi magari la scelta di un altro, quelli dicono, eh beh, hai fatto sta cosa, sì, ho fatto sta cosa, dipende, cioè non è che ho deciso io, ci sono delle scelte che sono fatte, a volte dai supervisor, perché vogliono che sia fatto in un certo modo, quindi è una sinergia proprio di scelte e noi siamo un tramite, siamo comunque molto importanti perché proprio andiamo a sintetizzare tutto quello che è, quello che è il pensiero di diverse figure professionali. Tra l'altro all'interno del turno ci sono tre figure professionali che, oltre la quarta, che magari non è il supervisor, tre figure che ci aiutano a fare il nostro lavoro, quindi è complesso, è complicato, non è semplice, non è facile. Eh, immagino, immagino. Sì, sì, ragazzi, allora, dato che adesso le domande per il momento le abbiamo fatte tutte, passiamo un po' alla chat e poi ripassiamo alle nostre. Buonasera al mitico Alessandro Quarta, nonché al dottor JD. Stasera no problem. Ragazzi, come al solito leggo qualche commento e le domande soprattutto. Frasi storiche tipo questa, chi deve sminuire gli altri per sentirsi grande è un po' raccio, giusto. Io non me ricordo, eh. Cosa? Non ve le ricordo le frasi, quindi mi farò delle figure becere proprio. No, 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 tranquillo, ma queste sono frasi storiche all'interno del nostro programma, quindi non... Benvenuti nel Team Cup è il più figo d'Italia, esatto. Bravi il canale Telegram. Comunque ho visto che hai messo like all'ultimo post in direct per gli aggiornamenti The Boys, ma sì, perché non posso non mettere mi piace a qualsiasi aggiornamento sulla terza stagione di The Boys, quindi anzi ti ringrazio di tenermi informato, Tommy. Oggi ho guardato Scraps e ho scoperto che l'ospite è appassionato di musica. Ciao a tutti. Cioè abbiamo con noi il doppiatore di Chris McLean. Scusa l'ignoranza, chi chi è? Eh, questa è una serie molto carina, devo dire, molto carina, cioè è molto particolare, tipo tre, no, forse sei stagioni, durata, ancora dura in effetti, che era un, si chiama Tutoriality, cioè un molto, pure bello splatter, bello, abbastanza, come dire, ci sono quei cartoni poco per piccoli. Questo era una via di mezzo, molto cinico, come il presentatore di un reality dove succedeva veramente di tutto. Ah, fortissima sta cosa. Era molto divertente, molto divertente. Una curiosità, Alessandro, ma tu i lavori più importanti che hai fatto, ovviamente non ti dico tutti perché sennò passeresti la vita a riguardarli, ti piace riguardarli per vedere il risultato finale oppure no? No, no, assolutamente no, una volta finito non mi riguarda più. Se lo vedo, lo vedo per altri motivi, perché non mi riguarda a vederlo. Cioè non lo vedo mai, ti ammazzi, ammazzi, ammazzi. Io, no, io, come sto, bene, grazie, io. Ah, ok, no, no, quello, quello, ok, però tipo scraps? Scraps, ho i cofanetti, ogni tanto me lo rivedo, anche perché me lo scordo, quindi lo rivedo e me lo riguarda, però non lo guardo, io ho fatto il film, mi guardo il film, fine, cioè non ci penso che l'ho fatto io. Ok, perfetto. Io mi accorgo del doppiaggio quando non ci credo, quando non funziona, allora non mi piace, ma se funziona tutto e le emozioni, le facce, sono, diciamo, sono supportate dalle emozioni vocali, non ci penso proprio. E' una fortuna. Sì, sarò quelli pignoletti che stanno giocati, no, no. Guardateci, quindi... Mi ha ricordato il calciatore che si rivede le partite solo per vedere, non la partita, ma lui che fa le giocate, no, è un po' la stessa. Esatto, esatto. Da una parte, sì, insomma. Quello è etonismo, no? Eh, un eccesso di vanità, giusto. Zero etonismo, mi piace, anzi, questa cosa, fra l'altro, tutte le cose che vedete, che ho fatto nella mia vita, l'esistenza, le ho fatte nonostante me. E, ecco, nonostante... Zero politica, zero sapersi vendere, nonostante questo, ho fatto cose, gli altri mi hanno scelto. E che cose, cioè, faccelo dire, faccelo dire. Cavaliere di luce, poi il fantastico, vero, il fantastico doppiatore della Casa di Papel, Berlino, dice Tantanebbi. Vero, vero. Buonasera, 327-4379-890, ma il tuo numero è cellulare? Guarda, io spero di no, perché se no potrei... ci vuole coraggio a mettere un nick, come nick il proprio numero, quindi spero di no. Una domanda da Alessandro, da LucaCip122. Ho letto sul tuo profilo che sei direttore di doppiaggio. In pratica, dici, tizio, tu doppi questo personaggio, mentre tu, Caio, doppi quest'altro personaggio? Sì, faccio il cast e poi mi confronto con un supervisor vari a seconda del tipo di prodotto, ci sono supervisor diversi, ci confrontiamo e trovi la rosa del... calcistica, no? Sì, sì. Che poi, Alessandro, noi abbiamo avuto vari doppiatori come ospiti. Io, ingenuamente, all'inizio pensavo che ci fossero sempre, un po' come gli attori per i ruoli più importanti, no? Dei casting call, dove poi selezionare di volta in volta il ruolo più appropriato. Invece, mi hanno anche detto e confermato che, in realtà, alcune volte i direttori di doppiaggio hanno la facoltà di scegliere una voce a prescindere dai casting. Cioè, nel senso, se tu hai una voce in mente, dici, voglio te, e la prendi. Cioè, non c'è casting che tenga. Quindi è una grande responsabilità essere direttore di doppiaggio, perché se tu fai una cosa del genere, poi la colpa, se va male, tu fanno scarica a barile su di te, giusto? Sì, sì, non è che succede niente. In senso, magari non ti fanno fare più niente, però... Comunque, le cose... Sì, sì. È così, effettivamente. È una sinergia con il supervisor o con il canale, cioè dipende, ci sono dei momenti in cui ci sono magari degli attori o delle case di distribuzione che vogliono alcune voci su alcuni attori. Quindi, insomma, c'è una contrattazione o no, dipende dai casi, veramente le casistiche sono davvero tante e varie. Ok. Però, sì, 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 dipende poi da caso in caso, anche perché immagino magari se c'è di mezzo un colosso, dato che noi siamo super nerd, tipo Marvel, credo che loro vogliano avere l'ultima parola su tutto. Quindi, alla fine, se loro dicono questo non va bene, dovrei cambiare... cioè, immagino, è da ignorante, può capitare che devi cambiare. Dipende, nel senso che sono... Ti ho detto, è una sinergia, però... Quindi, a seconda della Marvel, non pare che si può occupare, ma c'è la tante, quindi... Dovreste chiedere a lui. Ok. Non do Marvel. Ok. Non vado errato. Allora, un genio di personaggio con un genio di doppiatore, domanda evidenziata da Cavaliere di Luce, com'è stato doppiare Pedro della Casa dei Papel? Ti è piaciuto come personaggio? Moltissimo, moltissimo, un personaggio, veramente... se vi dovesse dire... probabilmente dopo JD c'è... c'è Pedro Alonso, c'è Berlino. Non lo so, in realtà, non lo so, se no, se ne sono fatti più duemila, quindi... Una castroneria, però sicuramente Berlino è veramente... Che personaggio! Veramente fighissimo. Tant'è vero che, cioè, è morto subito, fuori di un vero... Allora... Ti ho ricordi Berlino, quindi ci sta in tutte le serie, quindi... Diciamo che è successo anche con altri personaggi che è doppiato, no? Che morissero quasi subito, e poi diciamo che c'è stato una specie di pentimento nelle stagioni successive. Mi riferisco nello specifico a Killgrave, di Jessica Jones, che non è più considerabile spoiler, perché per la Marvel dopo 48 ore non è più spoiler. Quindi, essendo passati anni, non... Siamo tranquilli. Però, appunto, muore al finale della prima stagione, e poi nelle altre, insomma, si rivede che c'è questo... Abbiamo fatto morire un personaggio portante di questa cosa, dobbiamo recuperare in qualche modo. Io, per esempio, non me lo ricordo che è morto, però mi ricordo che mi sono divertito tantissimo a farlo, perché era un cantissimo, cantilistico, bellissimo. I psicologici. Ma poi David Tennant è un attore pazzesco. Questo mi fa venire in mente una domanda. È facile, cioè, penso che sia piacevole per tutti doppiare un bravissimo attore. Però quando ti capita di doppiare un attore pessimo? Prima di tutto, se ti è capitato, ma non vogliamo nomi, ovviamente, però quando ti è capitato, come... Io gioco dei libri, perché a volte, appunto, proprio avendo questa tipotomia tra viso e voce, a volte ci sono voci molto originali, evocative, che sono importanti, che seguono i movimenti, e altre invece che non seguono i movimenti. Quindi c'è un po' un distacco, a volte, quando sentite l'originale, c'è questo distacco tra la voce e l'italiano. Proprio perché noi prediligiamo il fatto di seguire le facce. A volte le facce, in italiano, hanno altre note, hanno altre musiche. E questo crea, magari, per chi vuole fare una copia a carbone dell'inglese, che è una copia, perché se tu fai una copia a carbone non ha senso. La musica è diversa, noi esprimiamo i sentimenti in maniera diversa, le intonazioni sono diverse, non possiamo... sarebbe veramente inutile creare una cosa identica. Te la vedi in originale, e se non sai l'inglese, te la vedi con i titoli. Cioè, insomma, è però pure qualcosa giapponese, perché poi il giapponese, voglio dire, sfido chiunque a vedere un originale giapponese e capisci qualcosa. Poi magari ci sono quelli pure che dicono, no, no, sono giapponesi, però, insomma, è questa la situazione, credo. Alessandro, senti, qual è stato il personaggio, l'attore che secondo te... cioè, l'attore più bravo? C'è stato un attore che ti ha colpito particolarmente, che ha detto, oddio, questo è un mostro a cui hai prestato la voce? Allora, io adoro Peter Sarsgaard, che è un attore bravissimo, e proprio perché è bravissimo, uno non lo riconosce mai. E poi è anche il fratello, sono una famiglia di Sarsgaard, non so se li conoscerai. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, quello, secondo me, è uno degli attori più bravi che ho fatto. Sì, 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 lo conosciamo. Perché riesce a cambiare completamente e non lo riconosci, cioè, non riconosci che era lui, lo vedi sui titoli e dici, ah, ecco, vedi? Allora, non è, non è far facile. Beh, questo non me l'aspettavo, non so voi, però, tra tutti quelli che ha doppiato, non me l'aspettavo Sarsgaard. Secondo me è bravo, cioè, nel senso, quello che a me piace, a me piace molto. Assolutamente. Rox Barbera, ciao a tutti, c'è anche il grandissimo Alessandro. Ciao, Rox Barbera, benvenuta. Dostagic, chiacchiere. Ok, Downton Abbey, Italia. È stato un peccato che Alessandro abbia dato la voce a Thomas Barrow solo nella prima stagione di Downton Abbey, anche se è stato sostituito egregiamente da Riccardo Rossi. Mi è dispiaciuto molto perché D'Anton Abbey è una serie che ho amato molto e che, però sono stato proprio operato, cioè mi sono operato, sono rotto la cistifebio in quel periodo e quindi sono stato poi sostituito e non più riintegrato, insomma. Quindi, fatta la prima stagione, ho dovuto declinare perché gli impegni, diciamo, di salute non mi hanno permesso di arrivare al rilosso delle messe in onda. Quindi hanno scelto, mi hanno chiesto e io gli ho detto sì, cioè io mi ho operato. Eh, per forza, poi quando ci sono... È stato un dolore, devo dire la verità, è stato un dolore perché è una serie che amo molto e mi è dispiaciuto non portarla a terra. Ok, però poi quando ci sono eventi di forza maggiore non puoi farci niente per quando... No, no, una volta ti aspettavano, mo' no. Allora, Luca ci... Aspetta, man, cosa significa monopolizzare? Monopolizzare, ah, dici prima che dico mi monopolizzerò, ospite, vuol dire che tendo a fargli talmente tante domande da non far lasciare spazio agli altri. Questo vuol dire monopolizzare, Luca. Beh, hai presente quello che succede nei primi 30 minuti di live? Bene, quello è monopolizzare. Esatto, esatto. Ma ma io adesso per una live intera sto zitto, sto zitto e lascio parlare solo voi e voglio vedere che fate, guarda. Me la guado così, da spettatore, cioè hai presente un drink in mano, con le mani dietro la testa, no, faccio così. Guarda, la prossima, no, la prossima no. La prossima live, la prossima no, quella di giovedì. La live di giovedì io sto qua, mi sorseggio il drink e sto zitto, è andata. E ogni tanto fai, beh, che dire. Esatto, ogni tanto fai, beh, che dire. Va bene? La metto qua? No, va bene. Va bene. Ragazzi, spettatore non pagante, sarò giovedì prossimo. Tu sei andato. Già stavo per mettermi a guardare Tor Ragnarok piangendo, non apriamo anche quest'altro aso di Dandora, se no Andrea si triggera. No, no, è veramente. È andata la serata, non... Sì, però questa Andrea te la devo leggere. Una mia amica ha detto che Tor Ragnarok è il più bel film dell'MCU. Eh, l'ho letto, l'ho letto anch'io. Ma io vorrei rispondere in una maniera poco solita, diciamo, inusuale. Non dire cose che ci possono far bannare. No, 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 vorrei totalmente virare la cosa dicendo che Alessandro, per esempio, ha prestato la voce a Tor nei cartoni animati. In due cartoni animati, se non sbaglio, della Marvel. No, tantissimi. Quasi tutti, cioè, Tor sono io nei cartoni animati di Marvel. Ah, questo è bellissimo. Perché io ho visto Avengers Assemble e mi sembra Super Hero Squad, si chiamava l'altro, non mi ricordo. Sì, Super Hero Squad Show. E in entrambi c'eri tu. Quindi abbiamo, penso, per la prima volta, da quando parliamo poi di Tor Ragnarok, quindi da quando facciamo riferimento a Tor, la voce di Tor. Una delle voci di Tor. Quindi, chi meglio di lui può parlarci? No, scherzo. Non credo. Volevo virare subito l'argomento cinema, perché, diciamo, è un tasto dolente. Ma, per esempio, nel cinema, anche attori che faccio io, invece, scelgono di farli con altri. E questo, cioè, questo, vabbè, tu hai detto io esco e entro molto rapidamente dal prodotto, no? Però, per esempio, ti capita tante volte di doppiare uno stesso personaggio e poi a un certo punto quel personaggio viene da un'altra persona. Ti dà fastidio un po', no? Non me ne frega niente. Non me ne frega niente, ma il problema è quando invece tu sei abituato a fare un personaggio e magari fai l'altro e ti attiva l'occhio su quello che fai spesso. Dici, è un problema, lì è un problema. Il corpo su quello, no? Quindi quando fai magari spesso un personaggio, alcune volte, ecco, non lo so, io faccio spesso Etanoke, per esempio, e sia in, che erano i Magnifici 7, non mi ricordo adesso il titolo di preciso, dove facevo invece Peter Salsgaard, mi mandava una faccia, cioè, ti attira o in altre cose dove lo faceva qualcun altro e magari l'occhio mi ci andava, dico, mannaggia, noi devo spostare, vai in automatico. E questo è una cosa... Però in generale, ma quello fa parte di me, cioè io mi occupo di quello di cui vengo chiamato ad occuparmi, invece ci stanno tanti colleghi che vogliono, vogliono, cioè, se li vanno a prendere i personaggi, quindi è un po' una filosofia di vita. Io faccio, vivo, vivo con e senza i miei personaggi, vivo con e senza quello che faccio e non faccio quello che faccio per dire ho fatto quello che ho fatto. Vivo per viverlo. Fra l'altro io, fino a qualche anno fa, non c'avevo neanche il curriculum, quindi ho fatto altri motivi perché avevo bisogno di fare un curriculum e mi sono spaventato, perché io non immaginavo, c'è tipo 37 pagine scritte piccole, quindi veramente tantissime cose. Ma guarda, pure io mi sono spaventato perché mi sono occupato io di fare la rendicontazione dei tuoi ruoli, quindi è stato tipo, ti ripeto, esaltante da un certo punto di vista, hai detto, che figata, ma non l'avevo riconosciuto qua e dall'altro notte sta un inferno. Bella, perché quando non ti riconoscono, eccolo, lì hai fatto il tuo lavoro, perché non ci sei tu. Esatto. Cioè, sei riuscito ad entrare nelle estenze del tuo attore, quindi non pensi alla voce in quanto voce di quello che l'ha fatta, ma quella voce è dell'attore. Ecco, lì hai fatto un buon lavoro, perché vuol dire che non stai a pensare all'attore che c'è dietro, ma l'attore diventa voce del volto. Questo è bello. Beh, questo è un aspetto caratteriale, il distacco dal personaggio, per me è un vantaggio, perché io sarei totalmente l'opposto, cioè me ne accorgo da fruitore, no? Io quando vedo un personaggio sempre doppiato dalla stessa persona e poi lo sento in un film doppiato da un'altra persona, mi infastidisce un pochino, no? E quindi immagino che possa essere la stessa cosa qualora io fossi un doppiatore e mi prendo un personaggio e magari l'ho doppiato sempre io, se poi lo vedo assegnato a un altro è com'è, no? Magari nel mio punto di vista, da emotivo, persona che si lega magari a un personaggio che ha fatto. Lo so, però sai cos'è? Che degustibus non disputandum est, chi prende il film sceglie e decide se ti piace di più una voce. C'è chi pensa che io sia leggero su alcune cose, chi pensa che sia pesante, cioè nella vita mi è successo di tutto, no? Quindi anche di film che mi hanno cambiato perché secondo loro ero troppo leggero, ce ne hanno messo uno pesante e l'hanno cambiato perché era troppo pesante e l'hanno messo un altro addirittura. Cioè succede di tutto proprio perché il gusto di chi si occupa del film secondo me è sacro. E quando è proprio questo, è il gusto, cioè mi ci piace questa voce qui, metticela, fa bene questo, giusto così. Quelli che invece sono a caccia del personaggio e a caccia di, che sanno già tutto quello che esce e vanno magari a caparrarsi i personaggi, quelli un po' mi danno fastidio perché magari vai a togliere cose che qualcuno invece avrebbe fatto meglio da te. Ok, no, 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 personalmente non mi riguarda, però a volte succede che... Ok, The Boy Wonder, io oggi ho guardato i primi quattro episodi di Scrappi, solo i primi quattro, cioè tu te la devi recuperare tutta, perché quella è una serie meravigliosa, The Boy Wonder, cioè veramente, mettitela al primo posto di qualsiasi altra cosa, se stai guardando altro smetti di guardare altro e guardati Scrappi perché... Soprattutto se stai guardando Thor Ragnarok, smettiti di guardare altro e guarda Scrappi, insomma. Perché è una serie che veramente ti colpisce. Assolutamente. Downton Abbey Italia ti chiede, sono dieci anni che seguiamo la serie TV, come ti sei sentito nel doppiare Thomas di Downton Abbey, personaggio molto particolare, le sensazioni? Bello, molto bello, appunto la prima serie mi è piaciuta tantissimo, ed è un personaggio pure quello, sta accettato molto anche sul cattivello, insomma, quindi mi è piaciuto molto. The Boy Wonder chiede, vorresti doppiare un personaggio Marvel oltre a Kilgrave? Io penso che lui intenda a livello cinematografico, serie televisiva, non a livello animato. C'è un personaggio a cui ti piacerebbe dare la voce della Thomas? Ma, mi piacerebbe dare la voce... No, non c'è un personaggio a cui dico, ah, vorrei fare sto personaggio. No. Però alcuni attori che faccio di solito, invece, nei film Marvel li fa qualcun altro, per scelte proprio di scuderia. Ma non perché non li vorrei fare, nel senso non mi... Sì, 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 no. Vedo che hai doppiato... Anche se l'hai fatto sempre te, dici, no, lì ci voglio un altro. Vedo che hai doppiato, LucaCip122, anche la sigla del mio... Sarebbe sesto cartone preferito, è vero, Leone e il cane Fifone. Può essere. Può essere. Io non lo conosco, quindi non so che... Ah, sì, sì, sì. Io ho molto presente Notte da Leone, i miei che me lo vietà. No, Notte da Leone pure è fantastico. Io non l'ho visto, ragazzi, recuperatelo, perché è meraviglioso. Assolutamente. Poi Stu, il personaggio che fa Alessandro... Ma poi mi devi spedire un po'. Che fa Alessandro? Stu è il personaggio lì dentro, alla fine, se ci pensi, e quello gliene succedono più di tutti là dentro. Certo, certo, certo. Poverino. Sì, troppo forte. Non grande. Salve, ciao prof. Qual è il personaggio... Questa è una domanda un po' strana, non so se si può... Qual è il personaggio che doppia un suo collega a cui vorrebbe dare la voce? Cioè, come dire, voglio rubare il lavoro a quel collega? Sì, no. Nessuno. Che poi è in linea con quello che ci hai detto. Sì, certo. Ovviamente. Mi occupo se mi chiamano, me ne occupo, se no non esiste, ne guardo il film, come non mi accorgo che sono io, come non mi accorgo che è l'unica mia. Certo. Sì, sì. A me di tutto Reality è piaciuta solo le prime tre stagioni, specialmente la prima, quando vince il Grassone, Scrubs col cuoricino, grandissima interpretazione anche del Dottor Deaton in Teen Wolf. Alessandro, posso farti... Cioè, sicuramente l'avrai già notato da solo. Posso farti notare che qualunque cosa in cui hai collaborato è poi diventato un film o una serie di successo. Quindi, qual è il segreto di questa cosa? Cioè, c'hai il tocco magico, c'hai una formula... Allora, io ti dico questo. Negli anni Ottanta ho fatto L'attimo Fuggente, è uno dei più importanti film della storia del cinema. Mamma mia. Capitano mio capitano. Quindi ho pensato a mazza che america nata. perché, per dire, ci avevo 18 anni, quindi io non sempre ti accorgi che stai a fare un capolavoro. Nel senso, a me personalmente ci sono... Cioè, sono cresciuto con dei film. Ci sono dei film che mi hanno fatto cambiare profondamente dentro perché altrimenti non ce l'avrei fatto a farlo. Mi ricordo, io ricordo sempre Kundun, che è un film su Dalai Lama. È stato difficilissimo perché dovevi fare tutto con niente. Dopo, dopo di essere venuto con la moto, di corsa, di fare una cosa, poi dopo di fare l'altra, arrivi lì... Dalai Lama. È tutto. È difficilissimo. pure i film che mi hanno fatto proprio crescere. Mi hanno fatto crescere come uomo, come bambino diventare uomo, e l'uomo diventare... Signore. J. Daru... No, ma davvero J. Daru viene da J. D. A. R. No, fantastica questa cosa. Si è dato il nome in base a J. D. Non c'era arrivato. Luca, Alessandro, come scegli il... Ah, questa si ricollega al discorso del direttore del doppiaggio. Come scegli il tizio doppio a questo attore? In base al fisico? No, penso a cosa al fisico, aspetto a un complessivo colore della pelle. Penso proprio che no. Non è visitare. Anche perché non si vede. O invece... Non ho detto una cosa stupida. Ci sono alcuni che invece dalla somiglianza del viso ti ci mettono perché li assomigli, magari. Sì, ma... Capitato, 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 sì, sì. Sì, ma... Non è un'assurdità, cioè non trovi che sia un'assurdità. Adesso stanno facendo anche una cosa razzista, Mauro, per alcune per cose... Sì, no, quello... Piccolone della pelle. Il problema è un po' diverso. Lì viene dall'America, dove comunque è molto importante questa cosa perché la salvaguardia delle minoranze etniche lì ha un valore completamente diverso da noi. non perché qui non sia importante, anzi, è che un conto è che tu hai un viso che ti connota una cosa etnica e un conto è che tu vai a scegliere una voce che ne sai di che colore c'ha la voce. Cioè, hai quello che puoi sapere, no? Quindi è una cosa che ci viene portata dall'America e però in Italia è un'applicazione relativa perché noi non ce ne abbiamo una quantità di attori non so, di colore o altro pari alle parti che ci arrivano. Quindi è un po' inapplicabile, ma lo stanno facendo anche con l'anagrafica, che è assurdo. Io ho 50-51 anni e non ho magari una voce da 51enne solo. Posso magari fare uno più vecchio ma anche uno più giovane. Dipende, non lo sai. Chiudi gli occhi e levi la mia facciona vedi anche altre cose. E la magia è proprio quella, no? Per esempio, a Shevalier che fa egregiamente come si chiama? Non mi viene. Padre o figlio? Padre, scusami. Padre perché è grande. Tom Cruise? Cruise. E voglio dire, cioè, lo fa eppure ha tanti anni di più e non... Ma perché no? Cioè, questa credo che sia, non credo che sia una cosa decorribile. Ma poi, cioè, scusami. Non è detto che la tua voce sia adeguata alla faccia. Cioè, è proprio una... La magia era proprio quella. Certo. Non funziona. Non funziona. Ma poi tu immagineresti mai una voce che non sia quelle Nani Baldini su Turk? Ad oggi? Vabbè, certo. Però quella è la magia. Per esempio, in quel caso, due attori che fanno lo stesso personaggio lo risolvono in modi completamente diversi. E ovvio che tu sei vissuto con quella cosa lì, che è il problema dei ridoppiaggi o anche dei remake delle serie. Tu sei legato a un'edizione, te la cambiano e ti stranisce. Magari l'edizione nuova è più fedele all'originale, ma ci fa sognare di meno. Quindi dipende. Dipende tanto da tutte le situazioni, dai fattori, da quanto la voce evoca più che essere identica. Sì, sì. Le voci americane stanno sulla faccia americana. Cioè, ci stanno bellissime ragazze che parlano così. Ah, belli e belli. Cioè, c'è l'uomo. No, no, no. È vero, però io non mi sarei mai aspettato la cosa che ci hai detto. Nel senso che è capitato che per un doppiaggio scegliessero in base all'aspetto fisico del doppiatore. qualcuno magari gli ha detto e questo gli esomigliavi. Io mi sono andato lì e ho detto in effetti, ammazzo, è vero, gli esomiglio. Però gli è venuto in mente. Cioè, il problema è chi ti viene in mente. Cioè, tu vedi un film e devi immaginare quali delle centinaia di voci italiane ci stanno bene. E sarà scelta una sola. Quindi immaginati che tipo di lavoro, Che tipo di cosa. Sì. Quindi non è semplice. Ti aiuti e poi funziona. Sì, però penso che più, cioè, la domanda era viene scelta in base al fisico o in base alla voce dell'attore? Penso che la stragrande maggioranza dei casi sia in base alla voce. Certo, non solo la voce dell'attore ma le potenzialità di quell'attore. Cioè, le potenzialità che quell'attore può raggiungere. Io ho fatto cose talmente disparate, talmente diverse, che qualcuno, appunto, sapendo la mia le mie attitudine di cambiare in qualche modo e di fare cose completamente diverse, mi ha utilizzato su personaggi completamente diversi. A volte anche per la difficoltà di farli. Sono dei personaggi oggettivamente molto complicati che non possono fare tutti. Cioè, quelli che fanno le prime parti, no? Le parti più semplici perché l'eroe è bella, voce piena, bella capa, ciaone. E il problema è l'antagonista che si fa al mazzo, capito? Sì. Se ci pensi è vero. All'eroe, bellissimo, però l'eroe senza l'antagonista non... chiaro. Sì, 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 rimane un po' meh, diciamo un po' asciutto, rimane un po' asciutto. in un certo caso quell'altro è quello che si fa al mazzo. È vero, se ci pensi è vero. Effettivamente sì. Se ci pensi è vero. Ragionandoci sì. Questa domanda non so se posso fargliela perché non so se Alessandro... Alessandro ha visto The Boys, la serie televisiva Amazon? The? The Boys? No. Quindi non posso fargli la domanda perché tra Patriota e Superman chi vincerebbe non conoscendo Patriota è inutile che gliela faccio The Boys Wonder, scusami. Voto supermente la fiducia. Allora, andiamo avanti. Quell'arma... Vabbè, è sempre... Allora, Andrea BBBB ti fa una domanda molto interessante perché anche io ho sentito questo discorso di recente. Buonasera. D'attualità. Sì, buonasera, sono un assistente di sala doppiaggio, doppiatore e adattatore dialoghi. Volevo domandare ad Alessandro. Hanno sviluppato Synthesia, un IA, un'intelligenza artificiale che gestisce il sync labiale degli attori. Si adatta al labiale italiano doppiato nella traccia italiana e le labbra dell'attore sono in sync automaticamente mantenendo le rughe usate dall'attore per l'espressività. Ora, questa cosa la vedo come minaccia ma anche come vantaggio. Lei cosa ne pensa? Allora, dipende, tutte le evoluzioni tecnologiche hanno una vita, insomma, c'è un momento in cui la tecnologia sostituirà l'uomo in qualche modo. Finché questa cosa non avviene sarà l'uomo a dover fare le cose. Il computer ancora non ce la fa ad avere l'umanità delle emozioni e quindi l'utilizzo è sempre relativo perché i costi non sono così bassi di utilizzo di queste applicazioni quindi dipende sempre quanto ti costa fare una cosa o fare l'altra. Il doppiaggio non ha dei costi così elevati rispetto alla produzione di un'unità. Immaginate come dire un attore di caratura mondiale di milioni di dollari quanto costano i diritti per tutte le lingue di tutto il mondo cioè che la danno a me e in conto è che c'è lui che ha contratti di milioni e milioni di dollari non so se gli conviene fare questo discorso qui. Detto questo sicuramente lui che fa l'assistente anche il dialoghista ha a cuore diciamo la parte del sync cioè io la faccio e poi la mettono a sync che è il doppiaggio in America cioè il doppiaggio dei cartoni per esempio in America si fa così loro fanno la traccia audio e poi i cartoni li mettono a sync sulla loro traccia audio invece la nostra arte è andare appresso a qualcuno che ha già fatto questa cosa qui quindi per noi se fosse così sarebbe da una parte meglio perché il problema non si pone se poi la tecnologia arriverà a sostituirci faremo un'altra cosa io sono molto scettico su questa cosa perché se voi l'avete sentito non si può sentire cioè non è che ti amo da impazzire ma sono intonazioni che non sono umane perché se noi andiamo a fare un campionamento dell'azione un conto è che è un documentario quindi sono cose semplici lineari eccetera ma un conto è trasferire l'emozione da una lingua a un'altra la musica cambia cambia la musica cambia il paraverbale cambiano tanti aspetti che non sono ancora accettati non accettati ma ancora non ce la fanno cioè comunque le siri tutta questa roba qui ci hanno investito tanto ma ancora sono che sono robotiche ma non solo robotiche quelli per esempio dei come dire dei navigatori per esempio sembrano un'altra lingua ti dice in caso perché sono sono trasumali ancora non sono un 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 pericolo perché comunque ancora questo aspetto dell'umanità non ce l'hanno se lo sarà faranno una cosa e quella cosa costerà talmente tanto che sì 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 che non ne varrà la pena è chiarissimo fai pure quello che vuoi però il motore sa ciao 84 Rio ito 84 Rio seba benvenuto io ad esempio so Maurizio Merluzzo ha doppiato su fratelli in affari quello che fa le case mentre ha doppiato anche shasam e shasam e per me erano due personaggi diversi credo questo per lui è un ottimo lavoro cioè il non essere riconosciuto e l'adattarsi diciamo al personaggio che interpreti assolutamente ma anche io Alessandro nei tuoi lavori vedere che spazi dalla voce di Topolino a JD a a Berlino a Stù a Berlino cioè per me erano se io non fossi andato a vedere per me erano persone completamente diverse e questo ti fa onore perché non è assolutamente facile fare una cosa del genere sì invece ci sono poi degli attori che invece come senti la voce dei doppiato come senti la voce li riconosci subito cioè adesso è un processo diverso allora c'è il brand quindi è come se tu fai un marchio e vuoi quel marchio e alcuni vogliono un marchio invece di è un'altra un'altra filosofia non c'è giusto o sbagliato c'è quello che ti piace di più sì sì a me naturalmente secondo me il nostro lavoro è quello il fatto è un altro lavoro però va bene anche quello che poi diciamo a livello noi che siamo molto amanti diciamo così dei cinefumetti soprattutto abbiamo un riferimento diretto di questa cosa di quello che dicevi prima del molto spesso cambiare la voce di riferimento fa sperimentare e la sperimentazione magari rende di più se così non fosse stato guadagno avrebbe dovuto dare Robert Downey Jr. a Luca Ward per diciamo perché l'ha doppiato più spesso lui e invece è stato dato a Maggi e poi tutti abbiamo potuto insomma apprezzare chi più chi meno la performance la caratterizzazione di Maggi su Robert Downey Jr. lui come tantissimi altri esempi però visto che abbiamo qualche qualche fan un po' più amante del cinefumetto gli stuzzico un po' così ecco sì sono arrivati che per ultima mamma a me ha fatto due personaggi insomma io nella domanda io nella domanda intendevo qua c'è la spiegazione della domanda del fisico io nella domanda intendevo tipo Caio a questa voce sarebbe perfetto per dare la voce a questo personaggio perché muscoloso nero ed alto in questo senso parlavo di fisico dell'attore che si vede c'è uno muscoloso nero e alto che parla così ciao 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 allora ho seguito per anni Jason Bear Max D. Roswell con il tuo tompiaggio vedendo la serie tv in originale la sua voce non mi piace la tua mi emoziona di più e credo quello è stato difficilissimo farlo perché era proprio depresso era un depresso proprio ecco quello me lo ricordo come quello più difficile da fare perché se seguivo lui veniva veniva proprio è stata dura perché lui era proprio che ha dormito capito invece no di fare qualcosa a dispetto grazie sono contento perché quello è stato proprio un lavoro c'è il sangue lì capito mi è piaciuto da morire il tegredo uscito dal cuore di Alessandro mi è proprio tegredo io poi parlo italiano solo con la luce rossa già prima e dopo non solo quelli che fanno la voce bella allora fatemi un attimo vedere è vero se il piccolo sapesse che potrebbe parlare con Thor Simone stasera dormi sul divano io che salto i messaggi della mia dolce metà e leggo gli altri mi sa che stasera se la prossima live non ci sarà è perché mi hanno cacciato di casa e sapete scusami l'ero perso sono tanti i messaggi grazie Andrea che mi ha salvato in extremis ma perché era il più importante me lo stavo lasciando per ultimo ragazzi non capite la strategia Luca possibile che preferisco la voce di Omer del primo doppiatore italiano piuttosto del secondo guarda con tutto il rispetto per il primo sfortunatamente io concordo con tutto il rispetto per Massimo Lopez Tonino Accolla per me ha dato una caratterizzazione lì non ci fa niente per forza dovrebbe essere doppiato da un'altra persona ma lo stesso è di Murphy con il nuovo film che è uscito mi sembra ieri sul sequel del principe cercamogli ce ne sono tanti come Gandalf Gandalf stesso De Niro De Niro purtroppo su quei casi non la casualità la casualità non può farci niente io pure ho sostituito Roberto del Giudice in mi spieghi di The Napper è vero è vero è vero adesso mi torna in mente questa cosa perché mentre la scrivevo ho detto ma tanto per dire no che senso poi sono andato a vedere sì sì è vero è vero però beh è inevitabile in quel caso cioè a me viene in mente l'esempio con magari i tuoi stori no dove essendo un film d'animazione generalmente per una fascia d'età medio-bassa magari tu associ no la voce di Woody a Frizzy a Frizzy però poi sfortunatamente insomma è scomparso è venuto a mancare è venuto a mancare e uno dice mi dispiace come Goku stesso Lupin insomma dispiace però purtroppo purtroppo succede eh sì non possiamo farci niente è il ciclo della vita in un certo senso per alcuni ma come Andre Mufasa sì sì vabbè ci sono tantissimi casi ragazzi Downton Abbey Italia come è stato doppiare il professor Clark in Stranger Things eh ma aspetta Presidente il professor Clark in Stranger Things come è stato doppiare quei ragazzini che Stranger Things è quella serie anni 80 dove ci sono quei quattro ragazzini in bicicletta e c'è quel mostro il Demo Gorgone no? sì ho capito frammentario frammentario perché era una cosa ogni tanto quindi non avevo la sensazione di fare una serie ma facevo il professore ogni volta lo rivedevo e lo rivedevo ah ok sì poi a poche battute cioè diciamo il professor Clark sì così sì 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 ragazzi evitate i spoiler su Vandavision i moderatori poi sono costretti a cancellarli non li facciamo uscita oggi come sapete come sapete come sapete ormai i nostri moderatori hanno il pugno di ferro quindi esatto non spoilerate sì 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 Schneidercut concordo con lo scettisismo sì della voce robotica doppiatori umani assolutamente dobbiamo stare attenti a non perdere questo saper dare le emozioni perché proprio con la ricerca del farlo come l'originale con gli stessi suoni possono venire delle cose che invece non funzionano lo stesso quindi dobbiamo anzi sempre tenere la guardia alta per riuscire a saper dare le emozioni con la voce le emozioni visive trasformare le emozioni visive in emozioni vocali che accompagnino proprio i movimenti degli studiatori dietro allora grazie al signor Quarta perché abbiamo sempre conosciuto l'Alessandro Doppiatore mentre questa sera abbiamo conosciuto Alessandro come persona guarda questo commento mi fa particolarmente piacere perché quello che noi cerchiamo di fare con i nostri talks non è proprio un'intervista canonica noi vogliamo ricreare una sorta di salotto dove ovviamente si parla agganciandoci alla professione del nostro ospite a quello che lo caratterizza però ci piace che poi venga fuori anche la persona dietro dietro ciò che fa e quindi mi fa molto piacere questo commento e ti ringrazio ma poco quanto è grosso sto salotto approfitto di questa di questa di questa cosa per dire appunto a tutti coloro che mi chiedono i vocali che purtroppo per motivi di salute visto come ne arrivano 60-70 al giorno 70-100 al giorno ho deciso di non farli a nessuno quindi non ve ne abbiate a male a coloro che ci tengono di più gli rispondo proprio dicendo le mie ragioni però cercate di capire che 100 persone al giorno è un lavoro a parte e uno già lavora tutto il giorno e proprio non c'è il momento il tempo fisico di poter fare una cosa del genere a parte il fatto che comunque mi stai chiedendo una cosa un po' come un jukebox quindi è poco carina nei confronti della persona proprio per questo perché divento per te solo un simbolo che ti fa essere importante in qualche modo perché dico il tuo nome con la voce di un altro che manca la mia la faccia mia quindi a parte questo quindi cercate di mettervi anche nei panni degli altri perché è importante che lo capisco nel senso lo capisco però a volte ci stanno tantissimi miei colleghi che muoiono gli piace tantissimo fa questa cosa però quando c'hai dei personaggi iconici dove la cosa non diventa più ne faccio uno ogni tanto ma diventa troppo scegliere di non fare proprio certo perché poi poi dopo si fanno figli e figli ma è normale perché perché non è non è come dire non è snobberia o sentirmi 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 un fico è il contrario cioè che per me le persone sono veramente importanti ognuno di voi è veramente importante è come giusto che voi considerate voi stessi quindi come importanti persone importanti proprio perché esistete e non perché state vicino a uno famoso perché poi quando ci facciamo i selfie con quello famoso quello famoso è lui noi sempre noi rimaniamo quindi consideratevi persone importanti tutti quanti tutti quanti voi tutti quanti noi poi c'è uno che fa un lavoro di un certo tipo uno che ne fa un altro uno è più in evidenza ma come vedete adesso prima solo se andavi in televisione cioè se c'avevi dei canali eri riconosciuto eri famoso e adesso sono persone che stanno a casa loro che io sono famose perché le conosco perché magari non le conosco personalmente però le incontro e dico ah ma tu hai fatto quella cosa e quindi non c'è più questo bug che solo le persone i deep erano famosi perché erano meglio degli altri no adesso tutti possiamo essere famosi in quel caso anche se per me l'essere famoso è un effetto collaterale perché tu hai tutte persone che ti conoscono per cui sei familiare ma tu non conosci nessuno quindi andiamo oltre quello che è la persona che è il bello di conoscere altre persone immaginati io come persona ti dico che l'essere fa il doppiatore ah il doppiatore allora parliamo del doppiaggio della cosa no non una persona voglio sapere che fai te anche capito che intendo proprio il cambio tra le persone perché non riesci più ad avere un rapporto normale perché o le persone che vogliono sapere quello che fai oppure tante altre cose o ti diranno fammi le vocette oppure fammi imitazione di alcuni magari non manco diciamo fammi l'imitazione ma che faccio imitatore quindi capito ve lo volevo dire perché è un'occasione per 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 capire per farmi capire insomma mi dispiace però è sopravvivenza no 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 ma è anche è un discorso ragionevolissimo anche perché capisco il tuo dire se non lo faccio a uno non lo faccio a tutti perché poi in quel caso faresti figli e figliastri sarebbe ancora più brutto è ovvio ci sono casi limite cioè ci sono dei casi limite non lo so è ovvio dei condini hanno male eccetera ci mancherebbe ci mancherebbe sì 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 però da lì cioè il caso limite è veramente importante che lo faccia per loro perché hanno delle difficoltà oggettive e magari riescono a superare o riescono a dare allenire un carico veramente enorme che alcuni bambini non fortunati hanno e allora sì hanno un altro discorso però sono dei casi sporadici non è la ma certo ma ci mancherebbe poi sì è cominciato mettere noi sì sì ma quando poi si tratta di bambini insomma ci mancherebbe mi viene da dire però capisco il discorso che ha fatto anzi io Lessi proprio tempo fa un'intervista a Chris Pratt che è l'attore che fa Starlord ha fatto Jurassic dove dice che lui non fa le foto con i fan perché gli sembra come se esponessero un trofeo di cui vantarsi proprio il discorso che ha fatto te invece dice dice io preferisco magari offrirgli una birra e farmi due chiacchiere col fan piuttosto che farmi la foto e sapere che questa foto poi andrà magari in giro come trofeo ha visto cioè mi sembra di essere non più una persona ma un oggetto svinisce la persona esatto cioè svinisce chi la fa è come se tu ti mettessi una questione di soffitanza rispetto alla persona famosa quindi come se quella persona famosa fosse più di te no non è più di te è semplicemente uno che fa un mestiere dove lo vedo con tutti ma tutti siamo importanti siamo necessari per la supervivenza con gli altri di se stessi quindi è quello anche è vero perché ti metti in una condizione di soffitanza cioè oddio sei famoso sei più importante di me no chiarissimo no no è condivisibile poi ovviamente non stiamo a sindacare su chi chi decidi di farli chi decidi di non farli però secondo me non chiederebbe no 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 però il tuo discorso è lineare e condivisibile per me quindi ti ringrazio anzi che l'hai l'hai spiegato vedevo perché magari poi uno non ha l'occasione proprio di spiegarlo no 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 hai fatto benissimo anzi sono molto contento che l'hai puntualizzato ma andiamo avanti Andrea grande fan di Guettiti io ho avuto una promozione vabbè sono felice per te ovviamente Luca quindi complimenti allora ti chiedono se hai mai avuto la passione per i fumetti dei supereroi cioè quindi per i comics americani e se sì qual è il tuo preferito no i supereroi no dunque c'era mio padre che aveva la passione per Tex Wheeler ma mi piaceva Zagor per esempio non so se ve lo ricordate però era credo italiano Ronelli sì però i supereroi non voglio adesso essere no però non mi prendono tanto ci sta ci sta come hai detto prima De Gustibus sì 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 e visto che abbiamo citato Tex Dylan Dog Dylan Dog sì ho letto molto sì mi piaceva ma mi piace perché era molto sceneggiato cioè c'aveva delle intriganti sceneggiature ed era un po' come un film perché era pensato come un film quindi era interessante quello mio fratello era appassionato di Dylan Dog ok aveva tutti e li leggevo a proposito di Dylan Dog sono riuscito a reperire i primi cento originali prima stampa quindi non ristampa ma vi farei vedere sembrano usciti dall'edicola ieri cioè vi assicuro che per un Dylan Dog dall'1 al 100 uscito dall'edicola ieri che è il primo uscito nell'86 è un miracolo quindi me li custodisco là gelosamente quando qualcuno la guarda gli faccio non lo guardare che me lo sciupi stiamo a quei livelli quindi no no lo capisco tuo fratello perché poi effettivamente a livello italiano penso che sia una nostra eccellenza Tex Dylan Dog no sì sì assolutamente sì qualcosa di qua andare fieri il momento non si infama l'ho sentito un uomo che si arrampica sui muri eh non è che arrampico sui muri ho detto la verità sul perché ha saltato quella domanda allora no no io quando mi hanno detto che avevo saltato la domanda della mia dolce metà che abbraccio e saluto Simona ti amo tantissimo vabbè volevo chiedere andrea andrea torniamo serida volevo chiedere come difenderebbe il doppiato contro chi preferisce i sottotitoli cosa ne pensa di un cinema senza doppiaggio ma solo con i sottotitoli allora il problema dei sottotitoli è non tanto eh allora se uno è madrelingua e capisce quello che dice benissimo non c'è qualcosa che ti dà di più ma se tu devi trasformare una lingua in un'altra lingua necessariamente il doppiaggio è la cosa che si avvicina di più al passare l'idea del regista da una da uno stato a un altro cioè no il sottotitolo non solo dà una parziale traduzione delle cose perché come ce l'hai nella parola ancora di meno ce l'hai nello scritto perché riesci a percepire molto meno nello scritto che nella parola quindi ancora di più eh diciamo la sintesi e la difficoltà di eh avere i concetti eh espressi in maniera veramente esaustiva ma c'è la percentuale che perdi a guardare il sottotitolo e ti perdi la fotografia che ha fatto il grande regista direttore della fotografia quindi non solo perdi la percentuale della della traduzione del testo ma perdi anche quel cento per cento che tu hai nel guardare l'immagine il cinema è immagine non è cioè è immagine suoni eh rumori eh eh e emozioni no? che scaturiscono eh nello spettatore con questo c'è un abbassamento notevole perché si abbassa anche la quantità di attenzione la percentuale di attenzione che tu hai proprio sulla pellicola su cosa ha girato perché non ti accorgi del 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 dei visi dei visi di chi non parla lì il cinema è fatto soprattutto da chi non parla lì capisci veramente il tuo personaggio quando non parla non quando parla quando parla sta parlando invece quando non parla fai in modo che ti fa capire quello che pensa non parlando è fondamentale cioè ci perdiamo dei passaggi incredibili secondo me e per questo il doppiaggio era una una buona un buon compromesso è comunque un compromesso però è un compromesso che parla la tua lingua se tu vedi uno che parla la tua lingua io ricordo sempre i miei nonni i nostri nonni John Wayne era italiano ma dico ma ti è mai venuto in mente si chiamava John perché si chiamava John come si chiamava Mario e quello mi veniva in mente John Wayne parlava italiano capito che intendo e i bambini Topolino è la voce di Topolino non è la faccia del cartone della voce mia è diverso proprio infatti noi avevamo delle direttive ci sono sempre state delle direttive che le voci Disney non dovevano apparire perché i bambini non dovevano sapere che dietro quella voce c'era cioè dietro quel cartone c'era è uscita così però grazie mille Jackie che ha regalato un abbonamento a Luca Cipolletta 1990 grazie scusa Alessandro che abbiamo interrotto il discorso con questa fanfare capito quindi secondo me è proprio questa cioè non tanto è la perdita che noi abbiamo di un'altra percentuale che è la percentuale proprio non verbale nella comunicazione ci sono tre aspetti il verbale il paraverbale e il non verbale il non verbale è quello che vedo il paraverbale come ti dico una cosa e il verbale è quello che ti dico ma se noi stiamo a vedere quando comunichiamo quello che vediamo è la percentuale più alta quello che capiamo da come mi dici una cosa è la percentuale seconda e quello che mi dici è la terza spesso tu dici una cosa a uno lo insulti ridendo e quello non se ne accorge perché fermo al paraverbale al verbale mi dici sei proprio un coglione ah grazie succede 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 più di quanto è veramente un grosso coglio a casa capisci quello che no raga sta scena la voglio vedere sarebbe bellissima da sister almeno vero è vero quindi secondo me in una gara LuPen contro Conan vince Conan così The Bot The Bot senza senso F4 non è detto comunque perché quello bello arriva con lo spadone arriva LuPen no ma non Conan no no Detective Conan ma anche io ho capito Conan il Conan no ha messo quello adulto con gli occhiali ah allora si è Detective Conan finici Conan il Barbaro di sempre eh sì sì no ma a prima questa è la gioventù Alessandro io e te siamo troppo vecchi per conoscere Detective Conan la bella gioventù Mauro nuova domanda chi vince tra Patriota e Attila ma non ha visto non ha visto Patriota ragazzi no ma a te dico a me ad Alessandro come hai detto che hai capito Conan il Barbaro magari nuova domanda tra Attila quello di Abattantuomo non rispondo non commento questa tua affermazione se avessi un canale Twitch bannerai chiunque faccia anche un minimo di spoiler di qualsiasi cosa ecco quindi già due tre persone qui dentro sarebbero bannati per sempre ciao ragazzi grazie ragazzi è una bellissima live Felice ti piaccia Alessandro collezioni qualcosa? bella domanda Gitaro no bannaggia dunque colleziono proprio no ho smesso mi piaceva mi piacevano tanto facevo mi facevo le schede dei film con tutte le cose mi facevo come si chiamavano proprio degli album film che avevo film con le cassette mi facevo tutti gli albumini con le illustrazioni mi piaceva però no collezione collezione no è un impegno un grosso impegno una fede a proposito dei bambini man una ragazza ho dei figli ragazzi a me non piace parlare della mia vita privata qui sul web quindi non voglio sembrare indelicato però sappiate che sono sono felicemente impegnato però adesso i dettagli i dettagli poi non è il caso di trattarli qua non voglio mancare di rispetto assolutamente però mi piace che la vita privata rimanga privata io vi ringrazio e grazie a tutti all'ospite bene ho visto il film i fumetti di Landog lasciamo perdere il film perché è una cosa oscena ragazzi il discorso che abbiamo fatto prima è chiaro sulle voci quindi io faccio una domanda per tutti la chiedo una volta solo per tutti mi prendo la responsabilità poi basta il discorso e le voci mi chiedono se puoi dire una frase tipica di JD la frase tipica di JD che ne so non me lo ricordo cioè io non mi ricordo le frasi tipiche mi ricordo a Maccabanane che ne so Maccabanane ma quanto era figo Raudi quanto era figo il cane di JD Raudi imbalsamato che ogni volta lo spostavano allora JD appunto lo dovrei rivedere perché non saprei neanche dire com'era la voce di JD ma poi JD è un personaggio che non puoi non amare perché lui si fa penso sia tutti noi quando si fa i sogni con gli occhi aperti che tipo sta al lavoro vede una cosa si imbambola è falso cioè io sono così cioè non so se anche a voi è capitato Alessandro è visivo non tutti sono così non tutti non tutti immaginano le cose no no io a livello visivo mi faccio dei film ma ho vissuto delle avventure meravigliose storie storie raccontate molto meglio di quelle di Takeaway T esatto ciao Jackie oh ce l'hai fatta alla buon'ora Jackie non so potevi venire nel post live dato che c'è adesso fai io stavo lavorando negli specchi non è vero tranquillo ah vedi amore ragazzi ragazzi vi informo ufficialmente che io stasera starò ancora in casa perché mi scrivono tranquillo sono così presa ad ascoltare Alessandro che non mi sono neanche accorta e comunque non voglio essere raccomandata vedete quindi Alessandro ti ha salvato esatto grazie Alessandro grazie mille penserò a te quando dormirò al calduccio nel mio letto sotto le mie coperte so che sembra ambigua ma non lo è non lo è bentornata quindi se ho capito bene ad esempio sul film americano nel linguaggio italiano dice buca mentre nel sottotitolo scrive grande fossa dei due quali devo prendere in considerazione buca o grande fossa cioè quando c'è discrepanza io penso interpretando Luca quando c'è discrepanza tra i sottotitoli allora c'è da dire questo la differenza fra come dire proprio lo scritto l'inglese l'originale lo scritto e i movimenti labiali è che nei movimenti labiali noi dobbiamo cercare il significato simile che stia sulle labiali quindi che stia sulla bocca quindi a volte la scelta di un significato diverso è proprio perché il sync non è un'opinione o meglio è un'opinione ma va rispettata quindi fra uno scritto in cui magari puoi usare uno scritto e lì è una questione di traduzione di gusto del traduttore per quello che riguarda i movimenti labiali se tu c'hai una B e tu metti buca ok cioè ci sono delle cose che vanno a ricercare proprio i movimenti delle labbra per darti l'illusione che sia la tua lingua che sia la lingua ma poi posso dire posso dire una cosa impopolare raga ma che ve frega io vedo dei documenti no dei documenti ma proprio delle petizioni oddio perché ha fatto una battuta che in inglese era tutta ma godetevi il film cioè chi se ne frega se alla fine fa una battuta invece di metterci che ne so adesso io prendo una notte da leoni invece di andarsi a vedere il concerto alcune cose invece di andarsi a vedere il concerto dove dice in lingua originale dei Jonas Brothers mi sembra che dica hanno sostituito un cantante che non mi ricordo qual era più famoso in Italia per dire esprimere lo stesso concetto la stessa cosa poi a livello di comicità di alcune cose quindi se invece di dire buca dice fossa ma chi se personalmente direi chi se ne frega godetevi il film godetevi il doppiaggio italiano che ci abbiamo dei doppiatori riconosciuti a livello mondiale tra i migliori se non i migliori al mondo fatemelo dire migliori perché abbiamo una tradizione antichissima e proprio per questo motivo abbiamo iniziato prima degli altri poi ovviamente ognuno dirà che è meglio di tutti i francesi dicono no anche loro dovranno ammetterlo diciamo siamo fra i migliori fammelo dire Alessandro perché vedo delle cose assurde su internet perché il doppiaggio hanno messo questo hanno stravolto il senso della frase come se avessero stravolto poi chissà che alla fine e poi per carità io capisco che ci tengano anche però insomma se ci tenete che sia identico all'originale guardate l'originale giusto come ad esempio Rittor al Futuro che hanno cambiato anche il nome poi ci sono per carità ci sono scelte felici scelte infelici però sì insomma scialli si dice scialli sì sì scialla come si dice a Roma relax 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 che unisce tutta la penisola che ne so relax sì però da scialla scialla rende bene scialla è più è proprio del tipo arega scialla non voglio essere campanile nuova frase storica ti dà l'immagine credo scialla ti dà l'immagine sì sì scialla con l'accompagnamento del gesto esattamente allora il doppiaggio viene spesso criticato ma senza di esso l'america avrebbe solo film e serie americane e l'Italia solo prodotti italiani dicendo sì a meno che non c'è le scamotage dei sottotitoli ma io non so noi pensiamo che era una cosa politica cioè non è un caso che i film americani in Italia hanno doppiato i film italiani in America no pensate che sia un caso cioè comunque loro la lingua loro cioè comunque l'importante era il significato del film che doveva essere capito perché dietro il significato del film c'era anche un'ideologia politica tutta una serie di cose per cui quella cosa lì era essere molto chiara nella lingua e se i miei non capiscono quello che dicono i tuoi è pure meglio è un discorso è un discorso molto più grande e molto più profondo di quello che sembra sì 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 infatti con nell'impero che fu da Oslo a Corfu c'è comunque il fascismo che ha tradotto tutto per salvaguardare la lingua italiana e infatti c'era tipo Louis Armstrong che era Luigi Fortepraccio cioè traducevano qualunque cosa in italiano quindi da questo deriva anche la voglia di tradurre nella propria lingua comunque l'americano è la lingua l'americano è l'unilese è una lingua diffusa anche per questo motivo cioè diventa uno standard che è lo standard del tuo non è che è la lingua migliore del mondo la lingua italiana è molto più ricca è molto più sottile è molto più grande loro hanno un termine di cento cose che è andate per dire tu get quante cose vuol dire come riesci a gestire la vita da doppiatore musicista compositore quale delle due cose preferisci di più D'Antoneb Italia D'Antoneb che fai queste bellissime domande beh vabbè sono cose diverse adesso qualche anno che come musicista sono faccio molto meno mentre prima mi andavo in giro per il mondo anche come musicista quindi era una buona percentuale adesso da diversi anni sono un po' più sostanziale però diciamo più nelle produzioni adesso poi a figura di col covid è un ricordo lontano la musica insomma quindi che devo dire noi siamo tra l'altro anche molto fortunati a lavorare ancora nel senso che pensiamo a tutti gli attori tutti i musicisti tutti coloro che lavorano nel mondo dell'arte che comunque gli è stato privato proprio il sostentamento di base quindi io mi reputo molto privilegiato e molto contento molto grato di poter lavorare ancora e penso con grande affetto e con grande come dire con grande rispetto di chi non può in questo momento lavorare quindi non può uscire ad esprimere la propria arte che era il proprio sostentamento quindi è un momento molto di sicile molto particolare infatti comunque anche stiamo distribuendo fondi per sostenere tutte quelle persone non ce la fanno immaginatevi di avere un lavoro poi il vostro lavoro non potete più fare è una situazione veramente veramente brutta non è sì 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 poi tra l'altro mi parlavi nel pre-live che questa è un'aneddota anche abbastanza interessante che tu sei omonimo di un violinista quindi in realtà siamo tre omonimi che conosco di cui uno ho fatto un quartetto vocale insieme bellissimo e quindi possiamo dire che gli alessandri quarta hanno una vena musicale molto molto come dire e le origini salentine insomma quindi comunque Salento una bella terra una bellissima terra d'arte un posto meraviglioso non so siete stati una bellissima terra bellissima ti chiedono Alessandro se puoi ripetere il concetto di verbale paraverbale e non verbale allora il verbale è il verbo quello che io dico le parole il significato delle parole il paraverbale è come dico quelle parole quindi io ti posso dire ciao oppure ciao oppure ciao e il non verbale è invece la faccia e posso essere insieme e possono essere diverse quindi io posso dirti ciao essere felice nella voce e ciao la faccia invece di uno incontenta no? oppure ciao bravo no? quindi possiamo ragionare e quando ragioniamo in questi termini qui capiamo che la comunicazione è composta di diversi proprio cioè ci sono delle fasce di come dire di comunicazione proprio ti comunicano a livelli diversi proprio ti comunicano a livello verbale per esempio facciamo un caso perché per esempio il non verbale non è solo quello che vedo immaginate una scena la scena di un film non splatter allora si rompe un ginocchio che fai? inquadratura sul ginocchio che si rompe? no? l'inquadratura sulla faccia espressione crack quindi ti fa impressione il rumore del ginocchio non vedi veramente il ginocchio immagini attraverso il rumore quello quello è paraverbale è proprio la comunicazione vista per strati cioè sono tre tipi di comunicazione differente le cui percentuali sono proprio state studiate e quindi c'è la percentuale più alta è quello che non vedi cioè quello che non è un verbale poi viene il paraverbale quindi come ti dico una cosa e poi quello che effettivamente ti sto dicendo quando fanno le truffe e fanno esattamente questo ti dicono cose magari tu dici ah è bellissimo poi non hai capito quello che ti ha detto è molto carino affabile sì adesso mi dà tutti i suoi soldi venditori e li studiano queste tecniche qui proprio proprio i venditori non sa voi ma a me quando riesce alla mia vena la mia vena didattica ma sì sì è una tuttore siamo tuttore la mia grande passione è interessantissimo invece quello che hai detto cioè anche io non essendo del ramo però ho apprezzato tantissimo questa definizione la chiarezza con cui l'hai esposta quindi la didattica è l'altra tua grande passione parlaci di quest'altra grande passione allora beh adesso io insomma sono anni che ho un'accademia che si occupa dei professionisti del doppiaggio cioè lavoro solo con i professionisti quelli che già sono lavorano per potenziare le loro capacità e per renderli professionisti consapevoli quindi per fare proprio settaggio dello strumento voce per rendere una persona che di solito fa una cosa magari non si rende conto di quello che fa invece renderla consapevole per diventare veramente un professionista con la più maiuscola e raggiungere livelli alti fantastico quindi diciamo non vai a spiegare a persone delle prime armi cioè non vai a formare ma vai a specializzare delle persone che già sono diciamo professionisti è stata una scelta di campo proprio per il rispetto diciamo intanto di chi sta in un ambiente di lavoro piuttosto che come dire è un è un settore comunque in crisi non è che c'è richiesta quindi tutte le persone che vogliono arrivare trovano grande difficoltà non perché sia una casta chiusa ma perché è difficile trovare spazio perché è un mestiere complesso che va spiegato bene e quindi le scuole che ci sono a livello di beginner non intendono proprio formarti ti fanno giocare a fare il doppiaggio che è quello che vuoi perché al doppiaggio ci arrivi dopo anni di pratica e di studio invece noi pensiamo ci alziamo la mattina e facciamo i doppiatori perché vedi fin doppiati e dici mi piacerebbe tanto doppiare invece per arrivare a doppiare a quegli livelli è come la formula 1 cioè non è che ti alzi una mattina parti dal kart poi arrivi la piano piano e arrivi poi alla formula 1 quindi è un po' un percorso io poi ho fatto anche ovviamente corsi con altre scuole però io con la mia ho deciso di occuparmi di questo per non disabituarci specie per le nuove generazioni a mettere il cuore cioè a utilizzare non solo la tecnica ma anche il nostro essere attori quindi essere esseri umani che interpretano dei ruoli ecco questo è molto bello quindi dato che ho visto già un commento di Andrea che dice maestro ed assistente di sala sto imparando molto da lei vorrei diventare suo studente forma a Roma puoi dare magari qualche forma a Roma quello che non so se Andrea sei non so adesso poi vabbè magari scrivergli magari guarda gli scrivi sui social penso che vada benissimo sia in format dell'accademia cioè l'accademia dottorato di professionisti che ti chiama scrivi il format ma del curriculum i corsi sono annuali quindi ogni anno io ho delle classi nuove che formo e mi porto avanti nel tema ok ok quindi magari puoi contattarlo e chiedere maggiori informazioni su a riguardo punto esclamativo ospite ragazzi allora io vi informo voglio dire due cose la prima vi informo che è già un'ora e cinquanta che siamo in live quindi dieci minuti e andiamo in chiusura la seconda è non potete lamentarvi oggi perché praticamente ho lasciato tutto il tempo a voi cioè noi ci siamo annullati e abbiamo lasciato l'intero spazio alla chat quindi il prossimo che mi scrive in direct eh però la chat è una legge raga vi lincio vi lincio vi ho avvisato adesso non mi scrivete in direct a una cosa del genere perché stavolta non lo potete dire quindi andiamo avanti e poi dieci minuti e andiamo in chiusura visto poi il tempo vola vero vero sì 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 quando ci si diverte quando si sta bene in compagnia vola ciao tola ben trovato Nembo Kid ma Nembo Kid poi tra l'altro non è neanche un nome italiano Nembo Kid cioè penso che tu abbia citato Nembo Kid come discorso di italianizzare i nomi però in realtà Proud of you ho visto Benigni che ha detto Luis Armstrong che lo hanno tradotto in Luigi Fortebrasi quando spiegava la costituzione italiana mio padre una volta era andato a riportare gli sci e siccome c'era un omonimo sulla foto che era anche sosia quello degli sci si era sbagliato questo è certo essere anche omonimo e somigliarsi fisicamente vinci adesso vi vedete così io di solito ho il pizzetto e sono senza capelli quindi un pochetto ci risomigliamo pure poi lui è un po' più c'è un po' più fisico di me quindi stai sicuramente più testante per carità no io adesso cerco il music è quello che ha fatto Libertango il music ah lo vedo lo vedo è vero è vero veramente bravito è vero vi ricordate vi somigliate impressionante Jackie qual è il percorso per diventare direttore di doppiaggio signor Quarta? il direttore di doppiaggio i percorsi sono vari diciamo molto spesso gli attori diventano direttori ma anche gli attori esistenti diventano direttori o altre altre figure possono diventare direttori la figura del direttore è un po' saper gestire gli attori quindi diventa una figura manageriale è un po' come appunto quando fai il calciatore poi diventi allenatore è proprio una figura diversa e non c'è un corso di studi in realtà io mi sto battendo per questo perché credo che i direttori siano la figura in questo momento più delicata perché sono coloro che scegliono gli attori quindi una generazione di direttori incompetenti sarebbe una cosa veramente deleteria per tutti quasi e sto cercando di fare proprio dei corsi per direttori però diciamo non è ancora è molto è complicata questa è delicata questa situazione quindi non c'è un un percorso di studi che porta alla direzione anche perché devi essere un po' psicologo un po' comunque gli attori li devi saper gestire è un altro lavoro è molto bello è di concertazione però non c'è ancora un percorso che ti porta agli attori li devi saper gestire mi è venuto in mente Raffaele Carpentieri doppiatore che abbiamo avuto come ospite venerdì scorso quando ha detto gli ho fatto una domanda su può capitare che a Leggio magari prima quando si facevano i turni in coppia hai un turno con una persona che tu odi e lui ha detto cripticamente ne ho viste le cose successe però non posso parlare e quindi questo fatto di essere psicologo mi porta in mente che se tu a Leggio hai magari due prime donne per un direttore di doppiaggio è difficilissimo penso o due persone che anche senza scusa se ti ho interrotto anche senza andare nel nel giudizio della persona metti che tu hai avuto una giornata difficile arrivi e non sei emotivamente pronto ad affrontare magari una scena difficile quello che ti dico ti può aiutare a dimenticare quello che hai vissuto e ti aiuta a interpretare la tua parte quindi anche non necessariamente dei tratti caratteriali nostri che possono essere in contrapposizione ma anche noi stessi che magari siamo chiamati a interpretare un personaggio e perché possiamo essere umani quindi se ci abbiamo avuto qualcosa che ti ha sconvolto qualunque cosa può succedere che ti allontana dal tuo personaggio il direttore ti aiuta a entrarci dentro ti riporta ti ricompatta e ti aiuta a venire fuori ecco anche quello cioè la figura del direttore è riuscire a tirar fuori il meglio da ogni attore da ogni carattere diverso e quindi anche perché la cosa più difficile siccome il doppiaggio è un lavoro fatto molto sulla velocità e sulla rapidità di esecuzione l'ansia da prestazione è altissima nei doppiatori quindi la cosa più importante è stare tranquilli e divertirsi cosa che però non sempre ci riesce ok raga beh prego mettete fa domande perché ci abbiamo cinque minuti io dico poi dopo ve le salto non voglio storie allora andiamo veloci aspetta prima di chiudere questo discorso direttore del doppiaggio però una mia curiosità magari è una domanda banale però non essendo nel settore chi seleziona il direttore del doppiaggio cioè come mi ricollego a come qual è il percorso però poi una volta chi decide chi fa il direttore del doppiaggio e soprattutto come avviene il passo una persona che non ha mai fatto direzione del doppiaggio come può prendere il primo lavoro da direttore del doppiaggio io per esempio personalmente ho sostituito Oreste Baldini proprio che era un direttore che io ero attore protagonista di una serie lui per motivi non ricordo perché mi ha fatto sostituire lui come come direttore e il mio essere in grado mi ha fatto poi fare altre cose e ok come dire dipende da o le distribuzioni o le società di edizione che che ti affidano un lavoro o che ti affidano una cosa quindi qualcuno di capi edizione oppure supervisor di una società di distribuzione che ti affidano un lavoro perché ti riportano in grado di fare ok chiaro nella mia testa immagino studio notte laioni penso di essermi persa la più interessante e formativa sì peggio per te no te la puoi rivedere poi negli highlights di Twitch perché sono le repliche delle dirette sono riservate agli abbonati testa abbonata quindi non te la perdi non te la perdi puoi rivedertela dall'inizio ti piacciono gli assi di sì Alessandro mi chiedono la musica metal è un po' tosta nel senso che allora c'è questa grande cosa perché è molto io sono uditivo quindi la musica metal non la non la sostenevo tantissimo però per esempio quando fanno dei pezzi lenti sono veramente bellissimi quindi diciamo non è la musica che prediligo però anche lì ci sono delle cose che mi piacciono moltissimo ok a quale casa signor Quarta a quale casa di Hogwarts appartiene? sono un sono un aspetta sono un corbonero corbonero interessante ragazzi interessante possiamo dire che per tutti sono felicemente un corbonero felicemente corbonero possiamo dire che per eccolo corbonero ragazzi bellissimo possiamo dire che ci saranno prossimamente sorprese per i Gifondoro è vero è vero anche per i corbonero anche per i corbonero ragazzi anche per i corbonero ci tappiamo la bocca per favore adesso faccio la giacchiera la situazione eh sì 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 meglio meglio dai poi Andrea quella cosa che ci siamo capiti la facciamo un'altra volta poi ti spiego perché sì 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 noi ci siamo riusciti a poter Gifondoro qua si dice di che casata apparteniamo tasso frasso tasso rosso Gifondoro mi piace ultima domanda e poi ne voglio fare l'ultima domanda sì hai avuto un punto di riferimento quando erano le prime armi Jay Darwood ti chiede Alessandro tantissimi punti di riferimento tantissimi quando io ero piccolo ogni giorno era una lezione ogni direttore ti dava un piccolo un piccolo pezzetto del puzzle che poi ti costituiva come persona e come attore era proprio un modo di imparare alcuni lo alcuni lo definivano in maniera secondo me un po' poco carina rubare andavi lì a rubare la differenza proprio dell'idea dell'imparare dall'esperienza degli altri in realtà tu non rubi l'esperienza di un altro ma l'esperienza di un altro ti fa fare meglio le cose a te quindi questo concetto più che rubare che poi gliela togli quello non la fa più però tu cresci diventi più 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 bravo proprio per l'esempio l'esempio degli altri tantissimi il mio doppiatore preferito è Pino Lotti senza pensiero a mani basse però anche Maria Tidia di Neo è splendida però c'erano tantissimi direttori io ricordo Corrado Gaiba che voi non conoscerete senz'altro però c'erano dei direttori che erano splendidi Silvio Spacesi che ho seguito per tantissimi anni che era quello che faceva Yoda per esempio che è perfetto la prima trilogia e quindi tantissimi veramente tantissimi direttori che mi hanno segnato ognuno un pezzo ognuno un pezzettino ok bene allora ragazzi andiamo in chiusura io ringrazio come al solito tutti voi che avete partecipato alla live mi fa molto molto piacere che vi sia piaciuta e che siate rimasti fino alla fine vi ricordo punto esclamativo telegram entrate nel canale perché è molto bello vi prepariamo agli ospiti con delle clip delle cose in anteprima quindi entrate e ringrazio gli streamer ma il grazie il grazie più grosso va ad Alessandro questa sera che è stato con noi e ci ha fatto veramente molto molto piacere poter avere questo tempo per fare questa chiacchierata e conoscerci meglio quindi grazie mille Alessandro grazie a voi grazie a voi è volato quindi siamo stati belli è assolutamente benissimo almeno mi fa piacere che sei stato anche bene tu perché noi siamo stati benissimo penso di parlare anche per andare questo è un sintomo importante bene allora ultima cosa momento spoiler ragazzi il momento più bello perché sappiamo che c'è le nostre moderatrici specialmente già chi si incazzeranno quindi momento spoiler chi abbiamo come ospite del del talks la prossima settimana che sarà martedì 9 Andrea beh c'è da dire che che dire in questi giorni ci siamo un po' sbizzarriti nel gruppo dell'Army nel gruppo con i sub abbiamo dato indizi a destra e sinistra finalmente possiamo dirlo sono contentissimo di questa cosa perché dopo Alessandro un altro doppiatore che mi ha segnato fondamentalmente per i personaggi che ha portato è la voce di Andrew Garfield la voce italiana di Andrew Garfield nonché quindi Spider-Man della serie The Amazing doppiatore dei gemelli Weasley per Harry Potter di Josh Shelby in Peaky Blinders delle tartarughe di Donatello e delle tartarughe ninja assolutamente beh se ancora non avete capito di chi stiamo parlando l'8 marzo uscirà un suo film che si chiama Olivia e il nome del nostro ospite è niente o po' di meno che Lorenzo De Angelis quindi anche un altro super ospite mi fa molto piacere perché continuare il trend dei super ospiti perché insomma dopo Alessandro era dura salutatelo da parte mia assolutamente assolutamente gli porgeremo i tuoi saluti senz'altro ragazzi che di beh che dire buona serata buonanotte grazie ancora e ci vediamo prossima settimana con altre due live l'appuntamento del talks martedì e giovedì con il salotto buonanotte a tutti grazie ancora Alessandro ciao ciao ciao